Franco Molloro, Mugnano, Taurano? Mugnano, Taurano, gol. Presidente? Uno. Perfetto. Vistariano e Baiano, Franco? Uno. Perché? Perché la Vistariano non ha giocato male a Solofre, ha perso contro il vento e immeritatamente, quindi uno. Presidente? Idem. Uno. San Martino, Virtus. Stavellino, Franco? San Martino, gol, perché il San Martino deve vincersi, deve scoprire, la Virtus deve riscattare e confermare la buona prestazione di sabato scorso. Presidente? Io pure sono fiducioso che la Virtus, Avellino, vincerà a San Martino perché la squadra è competitiva, si hanno perso in casa, però si potranno rifare fuori. Due. Franco, Ponte Codi? Uno, due. La doppia, te la sei giocata una sola volta, la puoi giocare? Sì, sì, la sapevo. Presidente? X. Un bel pareccio. Serino Solofra? Due. Presidente? Mi dispiace per trovare, ma il Solofra è molto più forte, pure io metto due. Franco, Pistaccio e Segrutta? Due. Presidente? X. Cervinara-Accadia, Franco? Cervinara-Accadia è una bella gara, credo che la sfonderà il Cervinara, però ci saranno gol e sarà gol. Presidente? Idem due, perché il Cervinara non può sbagliare più. Paolisi e Clanese. Ebbè, questa è una grande sfida, argomentate anche il risultato, forza. Il Paolisi non perde tra le muramiche, gioca benissimo e difficilmente viene e va sotto. Leclanese è una squadra ottima, però ha perso un buon 40% con Ruggero, soprattutto nelle ripartenze, perché avendo una difesa solida può sorbire l'attacco degli avversari e poi ripartire. Però in questa circostanza senza Ruggero avrà difficoltà, quindi penso che un X non stia male all'Eclanese. Presidente? X2 non si può fare? Sì. Allora per me è il X2, anche perché l'Eclanese non può perdere, perché il Paolisi si accontentera anche con l'X, perché la classifica che ha, sette punti di vantaggio, pareggiando con l'Eclanese non è che si allontana dal Cervinara. E allora, poi Sant'Omaso Montesarchio chiudiamo in bellezza? Gol. Non mi sbilancio perché io ho una stima immensa per i due allenatori, l'ho sempre detto, quindi gol, logicamente, gol può essere anche un 7 a 7, 8, 5 a 5, 4 a 4. Segneranno entrambe? Presidente? Immaginate voi che posso dire. Non lo so. Due? E uno. E uno. Ci mancherà. Ci mancherà.